Eh? Sì. Non vi faccio menata qualcuno. Ecco, adesso vi invito a rinnovare la promessa pensando di dire che con l'aiuto di Dio ho un promesso e pensando tutti i momenti belli che ho scoperto che ho dato e tutte le emozioni che ci ha fatto vivere e che ci continua a far vivere ci fa vivere. Quindi vi invito adesso a rinnovare la promessa. Con l'aiuto di Dio ho un compromesso sul mio onore di farne il mio meglio. Per essere il Dio, la Chiesa, il Papà e il Dio, per osservare una legge.